mister piaggio blonna tra virgolette solo un pareggio più soddisfatto o più deluso vabbè un pareggio diciamo non sono né deluso e neanche soddisfatti in pieno deluso no perché comunque è venuto con un avversario che sapevamo molto molto forte dovevamo vincere ma al settimo minuto il secondo tempo rimaniamo ancora per l'ennesima volta in dieci una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare ennesima doppia munizione ennesima espulsione e quindi ci siamo ritrovati di nuovo a giocare in casa la terza volta consecutiva tutto il secondo tempo praticamente con un uomo in meno questo è una cosa che mi ha fatto molto molto arrabbiare perché queste partite soprattutto questa non dovevamo fare questi questi errori di mentalità di eccesso di nervosismo ne ho parlato in settimana quindi sono arrabbiato per questo poi per il punto è venuto un punto sono soddisfatta metà noi dovevamo vincere però visto la situazione che eravamo in dieci abbiamo lottato l'inferiorità numerica non l'abbiamo per niente sofferta abbiamo giocato un secondo tempo alla pari e addirittura al 95esimo c'è capitato un'occasione per fare il bottino pieno questo significa che comunque la squadra non mollerà un centimetro siamo dietro l'avigliano sì ma daremo battaglia fino all'ultimo secondo del del campionato si può concedere un uomo agli avversari diventa pericoloso poi gestire la gara però comunque come dicevamo i ragazzi se la sono cavata egregiamente contro una signora squadra certo giocavamo contro la capolista quindi giocare in meno tutto il secondo tempo è stata dura ma sono contento e soddisfatto per come la squadra per l'ennesima volta ha reagito arrabbiato perché siamo arrivati alla terza volta in casa a giocare tutto il secondo tempo in meno con un con espulsione dobbiamo lavorare su questo e quindi dobbiamo capire come è possibile che accada questo ad ogni partita casalinga succede questo e mi 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 urta un po non mi fa stare sereno oggi proprio questo episodio qua peccato per il campo pesantissimo e per le troppe assenze sappiamo che adesso è l'inverno quindi i cambi troveremo molte partite che giocheremo molte partite con queste situazioni e quindi dobbiamo comunque essere consapevoli che il cambio il campionato è fatto anche di queste queste partite con questi cambi qua le assenze io non non parlo delle assenze si sono tante assenze però abbiamo una rosa ampia l'abbiamo fatta chi hanno chi ha sostituito gli assenti l'ha fatto egregiamente anzi alla grande quindi sono ormai molte partite che che giochiamo in queste situazioni però voglio dire non non si sente chi sostituisce alle ampiamente all'altezza si è vista una squadra comunque viva tonica determinata certo questo questo è la nota positiva perché quando giochi con un avversario forte la capolista tutto il secondo tempo in dieci e non soffri l'inferiorità numerica significa che la squadra c'è cinque punti da recuperare qual è il rammarico più grande di oggi niente rammarico l'ho detto non aver fatto ancora per l'ennesimo volta il secondo tempo in dieci questo mi mi fa arrabbiare molto magari in parità numerica magari non avremmo neanche pareggiato questo si sa però comunque volevo giocarmela fino al 95esimo in parità numerica e questo non deve più accadere vito mancusi mister dell'avigliano un avigliano che tra virgolette rallenta però era l'obiettivo quello di uscire indenni da barile sì sì sappiamo che questa non era una partita decisiva il campionato è lungo ci sarà tutto il giro di ritorno quindi cambia poco un risultato vale l'altro o perdevamo vincevamo come è uscito il pareggio non cambia nulla perché il campionato è ancora lunghissimo anche recriminazione particolare per questo pareggio no no credo risultato giusto i ragazzi hanno dato tutto il campo non era semplice per noi la prima partita che facevano sul campo in terra stata una partita una bella lotta meritava un terreno di gioco migliore fosse questa partita certo per il livello delle due squadre credo proprio di sì come ha visto robo la socca bella squadra ben messa in campo ragazzi che lottano su ogni pallone insomma sarà una bella battaglia per entrambe avigliano ha già avvento il campionato no assolutamente assolutamente ho detto prima cambia poco il risultato di questa partita molto play play in campo due società che ci tengono anche a questo aspetto infatti ringraziamo per questi rapolla socce e ci vediamo al ritorno sperando di accoglierli nel migliore dei modi anche noi tra le altre sfidanti chi vede meglio per la lotta a vertice ma in pietragalla al possidento non so che hanno fatto oggi che c'è anche lo scontro diretto fra di loro è lunga è lunga ci sarà da lottare ogni partita sappiamo che il campionato non finisce oggi e c'è tanto da fare viviano che comunque mira a vincere il campionato senza mesi te ci proviamo ci proviamo partita per partita noi ragioniamo così giochiamo la domenica arriviamo il martedì risettiamo e pensiamo alla prossima il vantaggio con gli avversari di oggi di giocassela in casa nel girone di ritorno sì vantaggio sul campo nostro riusciamo a esprimerci meglio anche come palleggio perché siamo una squadra in cui piace palleggiare di più giocare sugli esterni giocare palla a terra qua è stato complicato oggi farlo e aspettiamo in casa cosa manca a lavigliano oggi credo non manca molto non manca assolutamente mi fido ciecamente dei miei ragazzi si impegnano tutti gli allenamenti stiamo crescendo non ci manca nulla per poter fare un campionato di vertice l'ultimo avigliano che è obbligato a risalire la china per il suo passato storico beh certo la società merita palcoscenici più importanti a livello regionale è sempre stata in eccellenza noi lavoriamo per poterla portare al più presto dove merita espulsione ha condizionato sicuramente la ripresa comunque gli avversari si sono dimostrati squadra di grandissimo valore sì diciamo gran parte ha condizionato la gara perché alla fine pure quando siamo andati in dieci non non si è vista tanta la differenza dal mio punto di vista calcistico è normale che poi loro comunque sono vengono dotto vittorie consecutive sono venuti qua a giocarsi la partita anche con un campo impraticabile però noi anche in dieci abbiamo fatto vedere il nostro valore campo pesante che ha condizionato anche l'aspetto tecnico delle due formazioni quello sicuramente siamo due squadre molto tecniche ben messi bene in campo è normale che un campo del genere ripeto è difficile giocare in certi punti di zona del campo con un po d'acqua è normale che poi la partita diventa un po grezza cinque punti da recuperare per cercare di agguantare la prima posizione difficile ma non impossibile ma come ho detto prima siamo ancora l'andata all'inizio ci sono i riposi è normale che poi comunque abbiamo scondiretto a vigliano quindi alla fine vediamo pensiamo domenica dopo domenica domenica abbiamo un'altra partita difficile poi vediamo come va stagione comunque positiva almeno fino a questo momento sì stagione positiva perché comunque sia siamo partiti con diciamo io io dico calcisticamente parlando con l'handicap perché avevamo tre due tre persone importanti nel nostro scacchiere con la squalifica dell'anno scorso poi sono rientrati uno si è infortunato dopo 20 minuti ci è mancato due mesi adesso giochiamo con meno cinque persone tra stiramenti e purtroppo il calcio è così però la nostra forza anche i ragazzi diciamo i più piccoli fanno mettono in campo il 100 per cento e sono orgogliosi di loro e di questa squadra il valore dell'esperienza soprattutto con la tua prestazione di oggi ad esempio ma io che posso dire io quando gioco do sempre il 100 per cento di là si gioco avanti dietro esterno sono un anno e mezzo che faccio difensore centrale mi trovo bene ma non per l'età sto bene fisicamente però è normale il mister lì serve una mano lì dietro vediamo un po che se riusciamo a recuperare qualche difensore se no va bene così Antonio Petilli capitano dell'Avigliano dunque battaglia nel fango né vincitori né vinti né vincitori né vinti è stata una partita dura combattuta fino all'ultimo abbiamo cercato di vincere sia sia una squadra che l'altra la partita è uscito fuori un bel pareggio partita combattuta su un campo difficile campo pesante andiamo incontro all'inverno quindi giocheremo sempre su questi tipi di campi si interrompe la striscia di vittoria però quello che conta intatto il margine di vantaggio di cinque punti sì l'importante era oggi di non perdere se abbiamo vinto guadagnavamo ancora più punti però l'importante non era non era la sconfitta quindi dicevamo difficile giocare su un campo del genere per due squadre molto tecniche sì abbiamo due squadre veramente forse ma due squadre veramente forti forse il rapolla viene penalizzato tanto su questo campo secondo me perché è una squadra tecnica preparata bene con i giocatori validi forse su un campo in erba sintetica in erba naturale faceva ancora meglio complessivamente un giudizio sugli avversari squadra forte squadra forte preparata bene organizzata bene con uno staff dirigenziale dietro che è importante una bella squadra cinque punti per l'avigliano sono tanti per cercare di conquistare la vittoria del campionato ancora il campionato è lungo siamo ancora al giro di andata vanno giocate domenica dopo domenica ogni partita al cento per cento cercare di vincere siamo ancora ancora presto per dire che questi cinque punti valgono per la vittoria del campionato oltre a rapolla soccer chi vede come antagoniste per la vittoria finale ma io penso che il pietragalla rientrerà nella corsa che è una squadra forte ha giocatori di categoria superiore quindi penso che noi rapolla e pietragalla ci giocheremo il campionato fino alla fine con simone marchitiello un prodotto del vivaio locale di rapolla l'emozione di questa prima convocazione in prima squadra tu giovanissimo cerchi di dare anche il tuo contributo per la buona riuscita di questo campionato sì sì sono molto contento perché sono da quando sono piccolo proprio piccolo in questo ambiente su quindi sono felice questa convocazione qual è il tuo ruolo centrocampista un'emozione particolare ti aspettavi questa chiamata prima o poi no e ci speravo una chiamata convocazione la prima convocazione come hai visto la gara di oggi si poteva vincere sì sì abbiamo giocato bene è stata una buona partita una squadra in salute tu cercherai in tutti i modi prossimamente di essere un protagonista della bolla soccer speriamo spero di migliorare quindi magari giocare in bocca al lupo grazie